Costerà 1.300.000 euro ed entrerà pienamente in funzione entro marzo 2026 la casa della comunità Spock che la regione Abruzzo realizzerà a Slilvin sinergia con l'Asl di Teramo grazie ai fondi del PNRR. Nell'attuale distretto sanitario in via nazionale troveranno spazio nuovi ambulatori specialistici così come previsto dall'organizzazione delle case Spock e come spiegato da Nicoletta Veri, assessore regionale alla sanità. Questa istituzione di questa casa fa parte del grande progetto del PNRR e della nostra rete territoriale rete che è stata deliberata e soprattutto approvata dal Ministero e dall'Agenas che vede per quanto riguarda questa alza un investimento di più di 19 milioni perché diamo la possibilità di poter istituire 8 case di comunità, 3 cotte e 2 ospedali di comunità. La casa di comunità di Silvio e qui ringrazio il sindaco per la grande partecipazione che ha dato alla realizzazione di questa casa che sarà una casa Spock ossia aperta dalle 8 alle 20 e che darà servizi di prossimità e servizi sul territorio dove vengono soprattutto trovate quelle risposte per la cronicità che purtroppo oggi molti cercano ancora presso i pronti soccorso e quindi un cronoprogramma importante partendo proprio da marzo del 2023 per arrivare poi successivamente a settembre e vedere realizzata questa grande realtà, questa grande struttura per la rete territoriale. Quella di Silvi è una delle 5 case della comunità Spock che insieme alle 3 case Hub rientra nel piano di riorganizzazione della sanità dell'Asla di Teramo attraverso il potenziamento della rete territoriale come annunciato in conferenza stampa da Maurizio Di Giosia direttore generale dell'Asla di Teramo. Innanzitutto comporterà come dicevra assessore per Silvi un investimento di 1.400.000 euro circa riguarderà l'ampliamento dell'attuale distretto della struttura che abbiamo qui a Silvi dove vi saranno dei medici di medicina di base specialisti di tutte le varie tipologie vi sarà l'infermiera di famiglia un punto di raccordo con anche le altre strutture di prossimità presenti sul territorio perché ne avremo ben 8, 3 Hub e 5 Spock e quindi è ovvio che si viene a creare questa rete che dovrà essere determinante per la gestione del paziente dovrà servire a alleviare l'attività degli ospedali del pronto soccorso e quindi dar maggiore assistenza al cronico che in base alle indagini epimetologiche che sono state fatte nel nostro territorio rappresenta la fetta di popolazione più importante a cui va data assistenza. Il rinnovato distretto sanitario di Silvi sarà operativo dalle 8 alle 20 dei giorni feriali a beneficio della comunità locale come annunciato da Andrea Scordella, sindaco di Silvi. Un ottimo investimento sul nostro territorio in sinergia con la regione Abruzzo con l'assessorato della sanità Nicoletta Verì e con il direttore generale dell'ASLi Terra Maurizio Igiosia una bellissima notizia soprattutto per gli utenti perché è un territorio importante dunque a confine tra i comuni di Silvi e Pinedo verrà implementato con una nuova struttura con il piano strategico regionale appunto Casa della Salute.